Il presidente della federazione Andreas Andrenkel Hola, è già qui? Jacques, speciale showdown, super? Americo? Americo? Voi c'è Americo? Hola, viene anche Americo Dopodiché il signor Camarella si è arrivato Sarebbe anche gentile da farsi vedere L'organizzatore di questi campionati svizzeri Che è qui da noi quest'anno, 2018 Ve lo presento, eccolo qui Insieme alla federazione ha potuto fare queste due giornate Oggi siamo alla finale Ti lascio il microfono per poter poi dire tutte le cose necessarie per gli atleti Anzitutto grazie a tutti i pugili per essere qua a Locarno Per questa finale È una premiere a Locarno Che si organizza la finale del campionato svizzero elite Io chiedo a tutti i pugili un fair play Che tutto possa andare nel meglio possibile Che vincere i migliori Sappiamo che abbiamo qua la migliore della svizzera Peccato che manca Attila Un ragazzo che li vuole tanto bene Perciò un boccalo per tutti Chi vincere il migliore E vive il campionato svizzero E vive il boxe per Locarno Ok? Passo la parola al presidente Signore e signora Mille grazie per la vostra attenzione Un grande grazie per l'America e il suo team Per l'organizzazione di questo campionato Il fatto è molto bene Grazie a tutti i boxe Grazie a tutti i nostri presidenti Passo la parola al nostro delegato Per il campionato svizzero a Locarno M. Schmidri Oddio Dico buongiorno Buongiorno E spero che i combatti vanno con molto fair play Auguro tutti i finalisti Non è facile, devi dire, in questo stato E anche la mia parte per l'America Ha fatto una buona, ottima organizzazione Grazie mille Scusate, ci stavamo dicendo qualcosa Adesso facciamo premiazione Che cosa? Allora, io vengo a premiare il nostro presidente M. Anderregg Per benissimo il lavoro che sta facendo All'interno della sua boxe Anche al nostro delegato Oggi per il campionato nazionale elite M. Schmidri E anche per il nostro sport manager Mattias Che veramente Il modo come sta lavorando Per il Swiss Box Team Abbiamo fatto diverse cose insieme Come la trasferta a Capo Verdi Dove abbiamo vinto le due coppe Che è lì In questi otto anni Che è stato fondato il boxe con Locarno E possiamo ammirare Il trofeo vinto dal boxe con Locarno Siamo ancora piccoli Stiamo crescendo Però insieme alla Swiss Box Team Che mi ha dato la chance Di portare una bellissima squadra A Capo Verdi Il mio paese di nascita E dopo siamo stati accolti Moltissimo bene Anche con tutti questi Che hanno partecipato qua Angelo Pena E Giorgio Recevi Che hanno vinto anche il torneo a Capo Verdi E tutti gli altri Che hanno partecipato Grazie mille Ve l'ho premiato allora Prima i nostri presidenti Ecco Missio Derek Questo è un premio dedicato a lei Per il modo come sta lavorando Per la sua svolta Grazie Grazie Chiamo anche Missio Schmitri Sempre gentili E stare qua a Locarno Per questo campionato È la seconda volta Junior Elite Mi fa piacere Offrire questo premio qua Grazie mille Chiamo anche Mattias Mattias Lucchi Il nostro sport Balagetis Boxing E se vedete questi ragazzi Che stanno andando Per il mondo fuori Come la Sandra Grazie mille Ok Come la Sandra Brugge Che è stata adesso in India La campionata In India Un bellissima prestazione Ha fatto È andata Come è andata Però brava La Sandra E auguro un'altra volta A tutti Un buon campionato E un buon fair play Che vincono i migliori Ciao a tutti Un buon campionato Ok Adesso c'è Un momento Ok Scusate On va Italiano Chiamiamo gli atleti Sono gli atleti Rot Und Blau Rufamietz Grat Che è